ciao oggi prepariamo un contorno tipico della cucina romana le puntarelle ecco gli ingredienti in un mortaio versate l'aglio tagliato a pezzi le acciughe un cucchiaio d'olio e l'aceto pestate bene sino ad ottenere una crema aggiungete altro olio versate il condimento sulle puntarelle e mescolate bene le puntarelle alla romana sono pronte un saluto e buon appetito da Alessandra Ruggeri grazie a tutti